Ciao ragazzi, siamo all'Odeon, alla Colonna, dietro di me c'è il mulino e c'è il fiume e abbiamo appena preso due spritz con l'Aperol, dall'altra parte c'è il nostro operatore Fabio Piccoli che si sta dilettando a fare questo video, che non è fatto con l'iPhone questa volta speriamo che sia un po' più decente dei soliti, abbiamo preso l'aperitivo qui, ci hanno portato delle patatine poi ci hanno fatto assaggiare un gnocco fatto in casa con il ciodetto del Montel, ho letto che non vorrei sbagliare e questo è molto carino, tra l'altro è anche abbastanza affollato, siamo venerdì sera, c'è parecchia gente che beve l'aperitivo qui la location, vabbè, parla da sola, guardate in giro cosa c'è, e lo spritz è fatto bene? dentro non ci siamo stati, siamo rimasti fuori, stoici noi abbiamo voluto stare seduti fuori però è carino, cioè mi piace, mi piace, ci piace? ci piace ok, e basta direi che non c'è nient'altro da dire porcaccio boia che è umido vabbè sì, è un po' umidino, perché ci abbiamo il fiume dietro, però potete andare anche dentro a bere l'aperitivo non dovete stare per forza fuori se sentite un po' di confusione c'è tutta la gente intorno che sta bevendo l'aperitivo poi c'è anche una festicciola, non ho capito se è una laurea, un compleanno o cosa sono lì fuori che stanno festeggiando e basta, più un altro da aggiungere, se no buona giornata a tutti